Buongiorno a tutti, bentornati in un nuovo video, benvenuti a tutti nuovi iscritti Sono appena tornata da fare la spesa e stavo svuotando praticamente qui sul tavolo tutte le cose e poi ho detto perché non fare un video sullo svuota la spesa, quindi uno svuota la spesa che alle ragazze piace tanto e me lo chiedete sempre in direct Allora, sono stata a fare la spesa appunto da Basco, Lidl Orazio mi è passato un attimo da MD e vi direi anche alla COP Allora diciamo che sono andata in un momento un po' sfortunino, sfortunello diciamo perché praticamente con questo problema appunto del coronavirus purtroppo i supermercati sono stati saccheggiati Anche qui in Liguria, qua a Genova, in realtà non vi dico che non c'era niente, non si trovava niente però comunque la maggior parte delle cose non erano reperibili Ma vabbè, non importa anche perché, cioè io ho fatto la spesa perché non avevo più niente in casa e quindi ho deciso di andare a fare la spesa Però effettivamente sono andata in un periodo un po' così, in un momento un po' critico Ma prima di iniziare il video vi chiedo un like di supporto qui sotto Se amate questa tipologia di video, non la faccio quasi mai però tantissime, in tantissime mi scrivete sempre in direct di fare queste svuota la spesa Quindi comunque oggi mi sono trovata appunto a fare la spesa e ho deciso di svuotarle insieme a voi Se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi con il tastino qui in basso attivando se volete anche la campanellina per ricevere le notifiche relative ai nuovi video Se non mi seguite ancora su Instagram, io vi raccomando di farlo Mi trovate come orsotopotto88, ve lo lascio scritto qui sotto Io direi di iniziare subitissimo perché il video potrebbe risultare lungo Allora, mi trovate appunto in cucina, lo sapete che questa è la mia cucina Vabbè, vedete la pentola lì dietro, ho già messo su dell'acqua, devo farla bollire Perché praticamente sto aspettando che Orazio torni dal lavoro appunto E farò della pasta con la fetta Quindi niente, pasta integrale con la fetta Vabbè, in ogni caso questo poteva anche non interessarvi Comunque direi di partire subitissimo con le cose che ho preso Allora, per Orazio ho preso pane e cioccolato Io ho iniziato la dieta purtroppo quindi, ciao ciao Pane e cioccolato ci piace tantissimo però purtroppo non possiamo mangiare In ogni caso pane e cioccolato per lui E anche i flauti al latte, questi qua Mi piacciono moltissimo però, ahimè, non si può mangiare Poi ho preso, e lo sapete che io utilizzo tantissime saliettine di quelle desinfettanti Per pulire le superfici In offerta alla Copp c'era tutta la linea di Napisan In offerta e quindi ho deciso di prendere Napisan E ho preso le saliettine, queste qui, igienizzanti Per la casa Poi ho messo anche qualcosa già sul tavolo Perché appunto stavo svuotando in ogni caso Vabbè Ho preso il miele di acacia Della Copp Questo qui sono 500 grammi Io amo il miele In realtà il miele non lo posso mangiare Aspettate che mi sembra un pantenale appiccicoso Lo mettiamo qui In ogni caso il miele lo adoro Lo adoro con i formaggi Lo adoro da tutte le parti Il miele insomma Però purtroppo non si può tanto mangiare In ogni caso ogni tanto me lo concedo nello yogurt Un cucchiaino piccolo di miele Giusto per dargli quel tocco di dolcezza in più In ogni caso quello lì l'abbiamo preso Se lo mettiamo a volte nelle tisane Se Orazio gli serve nel latte miele Per fare latte miele In ogni caso il miele serve sempre Mi è successo un fattaccio bruttissimo Perché Praticamente Avevo una confezione di miele del genere Che mi avevano dato praticamente Da un Un coltivatore Quindi un contadino che coltiva Ci sono Fa il miele Vabbè Quindi mia zia mi aveva dato questo miele Il problema di questo miele è che lo tenevo lì su In questo Praticamente in questo quadrotto qui La cosa purtroppo che è successa È che con il calore dei fornelli Praticamente Questo miele si è cristallizzato Io non ci ho pensato praticamente Purtroppo è successo una roba del genere Non ci ho proprio pensato Io dicevo come ha fatto a cristallizzarsi Come ha fatto a cristallizzarsi Ecco ho scoperto l'arcano Quindi ho deciso di metterlo nella dispensa Dove tengo comunque tutta la roba da mangiare Insomma Quindi l'ho tolto da lì Se sentite sottofondo Un cane Purtroppo È il cane dei vicini Quindi se sentite Il cagnolino che abbaia È il cane della vicina Perché abbaia? Perché probabilmente Non c'è nessuno in casa Quindi ci accompagnerà Per tutto il video Probabilmente perché Ha deciso di uscire Quando io dovevo girare il video Di conseguenza il cane è solo Va bene Poi ho preso Un succo di ananas Questo qui al 100% Questo qua è della Copp Mi piace tantissimo Lo adoro Il succo Copp Poi ho trovato in offerta Non mi ricordo quanto 1 euro e 30 Forse è il prezzo Il prezzo suo In ogni caso Ho preso la Coca Cola Questi qui In questo gusto qui Si chiama Light Test Gusto Ginger Lime Ne ho prese due lattine Queste qui sono quelle zero Senza zuccheri Senza calorie E ne ho presa una Cioè due lattine Anche di Exotic Mango Che io adoro Io questa Coca Cola qua Al mango Già l'avevo provata Perché L'avevo acquistata Mi pare Da Avevo fatto un ordine Di cose americane E avevo ordinato anche quella Al mango Ed era buonissima Quindi non appena ho visto che C'era anche qui Ho deciso di prenderla Quindi Molto 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 bene Poi ho preso Il Lisoform Questo qua è Il pulisci i pavimenti Era in offerta Mi pare E questo qua Lisoform Protezione completa Disinfettante Cedro e bergamotto Nella fragranza Ottimo Io ho sempre adorato Il Lisoform E siccome ho finito Sto affinendo l'altro Prodotto che ho Per i pavimenti Ho deciso di prendere questo E di utilizzare questo Poi Ho preso In realtà Le ho già messe Nella 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 scatolina Qui Ho messo le uova E ho acquistato Le uova Quindi comunque Ho acquistato Sei uova Ho acquistato Sempre la cop Ho acquistato La bevanda Alla frutta Con ananas Agrumi e mango Che è questa qui Aiutano a mantenere I livelli normali Di colesterolo Nel sangue Va bene Non si potrebbe bere Tantissimo il succo Però Questo qua Ce lo siamo concessi Perché comunque Ci piaceva Che ci fosse il mango All'interno Quindi ho deciso Di prenderlo Poi ho preso Una scatola Una confezione Di vino bianco Questo qui È vino bianco Vinai italiani Comunque un litro Di vino bianco Questo qua Lo utilizzo a volte Per cucinare Non per berlo Poi Ho preso Una bottiglia grande Di coca zero Perché nel momento In cui ho il pasto libero Sicuramente Bevo anche la coca cola Perché mi piace Quindi noi prendiamo Quella zero Quindi se ho ospiti Apriamo la grande Altrimenti comunque Ho preso anche Due confezioni Di quella piccola Quindi ne ho due Le togliamo da qui Quindi ne ho due Ho preso sempre la zero Poi Ho preso Un mango Eccolo qua Mi piace moltissimo Il mango Lo amo Un agume d'uovo Quindi in brick Perché comunque I pancake Sono solita Farli con questo Algume d'uovo Qui E non con le uova Poi ho preso Un sapone liquido Igenizzante Questo qui Sapete che io L'ho sempre utilizzato Non riuscivo più A trovarlo L'ho trovato E l'ho ripreso Questo qui è quello Della prima Il mio tè verde Con antibatterico Magno e corpo Mi piace moltissimo La fragranza di tè verde Che rilascia Poi Ho preso Una bustina Di lievito di birra Mastro fornaio Questo qua Per pizze Focacce Pane Eccetera Comunque Il lievito di birra Secco E ho preso Anche Il lievito Istantaneo Per torte salate E piadine Questo qua Sempre pane angeli Poi ho preso Una Ora vi dico Quanti sono Quasi un chilo Di zucchini Con il fiore Ma in realtà I fiori sono da buttare E li ho pagati 2 euro e 99 al chilo Quindi ho preso Una manciata Di zucchini Poi Ho preso Due broccoletti Che sono qui Due broccolini Pagati 99 centesimi L'uno Mi sembra Poi Ho preso Un avocado L'avocado Lo sapete Lo mangio Con il salmone Con il pesce E a tal proposito Oltre ad aver preso L'avocado Appunto Ho preso Il pesce Questo pesce qui Lo prendo Dalla cop Perché Lo trovo lì E hanno molto più smercio Rispetto alla masco Quindi comunque Lo vado a prendere lì Questo qua È il Gimar Quindi della marca Gimar Ed è il salmone Che è già stato abbattuto Quindi Flor de Mar Salmone Già abbattuto Quindi non necessita Di abbattitore E C'è scritto Proprio dietro Non necessita Di essere abbattuto Comunque In ogni caso Ho preso Questo qui Grande Che è affumicato Ho preso Due di questi Che mi vedete sempre Quando nelle stories Di Instagram Vi pubblico Il salmone Che mangio Con il riso Eccetera È questo Poi ho preso Due confezioni Di questo qua Che è un pochino Più piccolo Ed è classico Questo qua È il sacco di salmone Mi piace tantissimo Poi ho preso Alla basco Ho preso Delle svizzere Queste qui Sono svizzere Classiche Di Bovino adulto Credo Sì Vabbè Otto svizzere Da congelare Poi ho preso Dei ceci secchi Che io Questi qua Li mangio In dieta Li mangio Ideali in cucina Vabbè Ceci Una lettina Di clementini Poi Due faghe total Questo qua Che è il faghe total Zero grafico Quindi è lo yogurt greco Poi Mi avvicino Con l'altra sedia Allora Ho preso Qui Delle pere Abate Credo Sì Vabbè Ho preso Delle pere abate Perché ho bisogno Di frutta Non avevo più frutta E quindi Ho preso Le pere abate Poi Ho preso Delle banane Orsero Queste qui Ok Poi Poi ho preso Delle mele golden Quelle gialle Appunto Ok Anche le mele Mi piacciono moltissime Tra l'altro Le mele Sono quelle che Non vanno a male Diciamo Se rimangono Qualche giorno in più Quindi Tra quelle E le arance Non vanno a male Insicuro Poi ho preso Ho preso Una confezione Di fagioli cannellini Che sono questi qua Sono sempre secchi E poi anche Una di lenticchie verdi Che tra l'altro Appunto I legumi Li posso mangiare E di conseguenza Vedo che le mie confezioni Ho visto che le mie confezioni Erano quasi vuote E quindi Devo andare a Riempirle Di nuovo Poi ho preso Cipolle bianche Che non ne avevo più Poi Un pacco di farina Integrale Di grano tenero Questa Perché quella bianca Non la mangio E se ho bisogno Ogni tanto di farina Preferisco quella integrale Ho preso Anche delle mele rosse Queste qua Penso che siano Come si chiamano Mele gala Non le ho mai mangiate Dal dire Dal profumo Sembrano molto buone Queste qui sono La trentina gala Vabbè Rosse Quattro mele rosse In realtà Non sono solita Mangiare quelle Ma sono solita Mangiare O l'evelina O L'altra La pink lady Ecco Poi ho preso Due pacchi Di pasta Di pasta integrale Queste sono le penne Integrali Queste qua le mezze penne Penne rigate E poi una confezione Di fusilli integrali Queste qua sono Della primia In realtà hanno fatto Tutta la confezione Tutta la linea nuova Di quelle di primia E quindi le ho prese Perché Vi dico Pasta Praticamente Ho trovato quella integrale Ma l'integrale È quella che posso mangiare io Quindi non mi Non mi preoccupavo Del fatto di non trovare Pasta integrale Ho preso Anche i tortiglioni Non mi ricordavo Ero proprio senza Pasta integrale Zero Non avevo più pasta integrale Quindi Ho preso anche I tortiglioni Poi Ho preso Due confezioni Di pane di segale Integrale Questa qua è della linea Vivi Verde Bio Primia Ne ho prese due Che il pane integrale Di segale Lo posso mangiare Appunto a pranzo Quindi Me lo sono preso Poi ho preso Un Cosino di patate Perché ogni tanto La sera Al posto della pasta Posso mangiare le patate Quindi Le patate le metto al forno Semplicemente Con un filo d'olio E sale Quindi le lascio andare al forno Poi ho preso Due confezioni Di riso basmati Sapete che io Amo il riso basmati Lo faccio tantissimo E quindi Ne ho prese due confezioni Prendo sempre Questo di prima Perché è quello Che preferisco E non può C'è comunque Come lo faccio io In un determinato modo Che tra l'altro Mi aveva insegnato Una collega Lo faccio simil colombiana Quindi comunque Mi aveva spiegato Tutti i passaggi Questa ragazza Questa amica E E quindi Lo faccio Come lo fa lei Poi ho preso Direi che poi ho finito Sì Forse no Ho preso Due marmellate Queste qui sono Le marmellate Zero zuccheri Alle fragole 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 di bosco Questa Di Zueg E questa qui Di albicocche Che mi piacciono tantissimo Quindi poi Altra borsa Terminata Ho altre oltre cose Da farvi vedere Qui E poi direi Che ho finito Allora Ho preso Poi ancora Lo Chanteclair Che ne avevo bisogno Perché l'altro È già Praticamente A metà Quindi ho preso La scorta Questo qui Lo Chanteclair Sgrassatore universale Al profumo Di limone Questo Poi appunto Come vi dicevo prima C'era La linea Napisan Che era in offerta Con il 30 O il 40% Non mi ricordo Alla copp E sapete Che io utilizzo Il Napisan Ma ho voluto Provare Anche questo qua Limone e menta Io solitamente Utilizzo Quello Aspettate Che Vediamo Se Ok Io utilizzo Solitamente Questo qui Qua Quello classico E ho voluto Provare Appunto Quello con Limone e menta Profumo di Limone e menta Magari fa un pochino Più di profumo E poi Ho trovato Un prodotto Novità Che in realtà Non avevo mai visto Da nessuna parte Ho trovato Questo prodotto Novità Per le superfici Bagno Sempre Natisan Eccolo qua Non vedo l'ora Di iniziare L'utilizzare Perché sono sicura Che farà Sicuramente Il suo effetto Novità Superfici Bagno Bene Spray Igenizzante Bagno Contro il calcare Residio di sapone Rimuove Batteri Ottimo Lo proverò Va bene Per il lavandino Doccia Lasca da bagno Rubinetteria Piastrelle Tavoletta WC Superfici In vetro Quindi non ve lo sto neanche a dire Ho utilizzato in tutto il bagno E fatte prima Poi Ho preso Ho fatto una scappatina Alla Lidl Ma solo per prendere una cosa Cioè Le albicoche seccate Che avevo finito Quindi Le ho prese Queste qua Ogni tanto A merenda Se mi viene voglia Di mangiare Insieme alle mie nocciole Noce E quant'altro Mi mangio due albicochile E Mi aprono il cuore E poi Orazio È andato da MD A prendermi la pasta Quella Della Vivi Meglio Cioè Quella Con Con i ceci Con la farina di ceci La farina di lenticchie rosse E la farina di piselli verdi Perché io posso mangiarle la sera Quindi Mi ha preso una confezione di queste Fusilli appunto Con i piselli verdi I sedanini Di lenticchie rosse E poi anche i sedanini Di farina di ceci Quindi questo è tutto Quello che ho preso Per la spesa Vabbè Sì è abbastanza In realtà Però Erano cose che mi servivano Purtroppo Perché non avevo più scotta E non avevo più Più roba Insomma Quindi niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Fatemi sapere Se avete provato Qualche prodottino di questo Che vi ho menzionato Tipo La pasta con la farina Di ceci Lenticchie Eccetera Di legumi Fatemi sapere Se anche voi Avete per caso Mai trovato Questo qua Per le superfici Del bagno Eccetera Magari Non so Se è uscito Da tutte le parti Se lo trovate anche voi Se era uscito da tempo L'ho trovato solo ora Non lo so Va bene ragazzi Quindi il video termina qui Io come al solito Vi mando Tanti super mega bacioni E ci vediamo alla prossima Ciao 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 Ciao